Marche Multiservizi ormai da diversi anni sta improntando la sua azione sulla sostenibilità ambientale e penso che questo possa rappresentare il giusto percorso per tutto il nostro territorio. Parole, quelle di Daniele Tagliolini, rilasciate a Rossini TV lo scorso dicembre in una delle tante conferenze e iniziative di Marche Multiservizi. L'azienda di cui Tagliolini era presidente, di cui era orgoglioso e con cui lavorava guardando sempre avanti da buon amministratore abituato a pensare all'innovazione e al lavoro di squadra con un territorio che amava profondamente. Da ieri sera però la provincia di Peso Rubino ha perso un grande uomo ancor prima che un eccellente amministratore. Daniele è morto alle 20.30 all'ospedale di Rimini ad appena 44 anni. Se ne è andato dopo un ricovero che ha visto improvvisamente precipitare quel brutto male che gli era stato diagnosticato l'estate scorsa. Chi lavorava al suo fianco racconta con commozione la straordinaria dignità con cui aveva affrontato quelle tumore allo stomaco, lavorando e guardando sempre avanti. Commozione ma anche straziante stupore, perché nessuno si aspettava che le cose precipitassero così da un giorno all'altro. La notizia era imbalzata ieri sera attraverso i social di tanti coloro che lo conoscevano e che raccontavano di aver lavorato e programmato progetti con Daniele Tagliolini fino a pochi giorni prima. Dal sindaco Ricci a Daniele Vimini, dall'essia Morani a Giuseppe Paolini. Stupore sintetizzato dal fatto che proprio questa mattina era in agenda una conferenza stampa per un altro dei progetti di Marche Multiservizi. Conferenza immediatamente annullata per lasciare spazio alle lacrime. Prima di tutto quelle della moglie Giovanna, dei figli Matteo Adele e dei suoi genitori Pietro e Anna. Domani, sabato 12 marzo alle 10.30, a Peglio si terrà il funerale. Quell'Apeglio di cui è stato sindaco, uno dei ruoli ricoperti in 44 anni in cui Tagliolini ha fatto tanto, dipendente delle poste, politico PD, primo cittadino e poi primo presidente della provincia di Pesor Urbino dopo Matteo Ricci all'indomani della riforma che spogliolente di tante risorse. Infine Marche Multiservizi, con la quale coltivava già tanti altri progetti. Tanti ruoli, tanta passione, tanti legami con gli amministratori di un territorio, ognuno dei quali lo ricorda prima di tutto come un amico. Daniele ci ha lavorato al suo fianco per anni, ho un ricordo di lui bellissimo che rimane stampato e impresso nella mia mente. Chiaramente perdiamo il meglio, perdiamo il migliore, perdiamo l'essenza del territorio, la vera forza della natura che vorrei ricordarlo a tutti, ha preso in mano la provincia quando tutti scappavano dalla provincia. Con orgoglio, con determinazione ha portato avanti con la sua capacità ha portato avanti tanti progetti e tante cose per il suo territorio. Certamente oggi anche le proloco di Piesa Urbino perdono un pezzo importante di storia, un pezzo importante che ha rappresentato veramente l'intero territorio e la nostra identità del nostro territorio.